Musica Adesso ho l'onore di presentare Andrea Tronchin che è conosciuta molto qui nel settore e soprattutto nel territorio veronese si definisce un sopraeconomista, un amatore di reti, esperto di sovranità alimentare, economie solidarie e politiche della decrescita obbligatoria ha lavorato in molti istituti, ha fatto parte a un curriculum lunghissimo quindi non sto qui a leggerlo però in particolare l'arcipelago Scec del Veneto e naturalmente Verona che vedete qui come sfondo Andrea è venuto a trovarci ed è il mio grande piacere che lo chiamo qui sul banco L'ora del pomeriggio è sempre un po' problematica con la digestione in corso però è andato a Catania e suppongo che abbia mangiato bene perché i contadini e i cucinieri fanno roba locale vegetariana e è fatta bene allora parliamo di sovraeconomia per parlarvi della sovraeconomia io devo parlarvi necessariamente un po' della mia vita faccio parte di naturalmente Verona che è una rete di economia solidale rete cosa vuol dire? vuol dire un insieme di realtà, sono circa 70 realtà socie c'è di tutto di più, WWF, legambiente, ONG, associazioni e anche produttori di beni e servizi che possono essere andati dall'alimentazione a prodotti per la casa bene, facendo parte di questa associazione qualche giorno fa ho conosciuto attraverso un incontro, un simposio l'associazione che si occupa di, è un ONG che fa cooperazione allo sviluppo, Nuova Acropoli e si occupa però anche di questioni filosofiche io sono un economista e ho sempre studiato sostanzialmente scienza, economia, di filosofia, non sapevo niente e ho scoperto il mito della grotta di Platone il mito della grotta di Platone che dice che c'era una volta in una caverna un gruppo di uomini legati tenuti lì per forza e tramite un fuoco si proiettavano delle ombre sul burro e ci faceva credere che la vita era quello che, quelli che avevano le ombre in mano, il fuoco la vita fosse quella lì e con determinate storie e l'attualizzazione di questo mito è che gran parte della popolazione è dentro una caverna e ci sono fuori quelli che gli fanno vedere le ombre che sono gamba di legno e la banda bassotti e che quindi non sanno che cos'è il mondo, sanno cos'è la grotta e quindi il filosofo è quello che è uscito dalla grotta, ha scoperto il mondo e è tornato dentro nel spirito solidaristico e volontaristico per avvisare queste persone che fuori c'era un altro mondo e questo mi è piaciuto molto perché ho scoperto che in un certo qual modo io e anche molti di noi, forse tutti noi siamo dei filosofi questo per dirvi che l'economia solidale è qualcosa di veramente ampio quindi dicevo che sono un economista, ho studiato agraria, sono un economista agrario però sono anche un contadino, produco olio di olive qua sulle colline quindi terra, terra faccio parte di un movimento internazionale che è via campesina sono circa 400-500 milioni di contadini in rete che si battono per la sovranità alimentare e qui veniamo al discorso della sovraeconomia è stata presentata a prima volta ufficialmente in Mali nel 2007 alla conferenza internazionale mondiale sulla sovranità alimentare a cui hanno partecipato sia le reti dei contadini sia la società civile in genere e qui attraverso questo movimento ho preso cos'è la sovranità alimentare che è fondamentale per un sacco di diritti una popolazione, una comunità ha diritto di decidere cosa produrre, come produrlo come commercializzarlo sostanzialmente il cibo non è una merce è prima di tutto un diritto e questo in tutto il mondo e per tutti questo concetto si è espanso nel 1993, è stato presentato per la prima volta alla FAO a Roma pian piano si è sviluppato ormai è diventata una piattaforma per cui alcuni stati hanno anche assunto all'interno della loro costituzione questo concetto che è molto complesso che non sto qui a spiegare non ci vorrebbe una giornata solo per quello comunque la sovranità alimentare la sovranità alimentare nel sistema neoliberalista di gamba di legno non ci sta è necessario un sistema economico diverso per farlo funzionare e quindi l'economia solidale è appunto l'economia che più si avvicina ed è in grado di far funzionare far rendere e concretizzare la sovranità alimentare tutto questo va calato in un contesto l'abbiamo visto questa mattina di decrescita obbligatoria perché i limiti del mondo sono finiti noi stiamo mangiando anche quello che appartiene alle generazioni future sostanzialmente quindi decrescita obbligatoria che deve diventare una decrescita consapevole e quindi per chi gli piace una decrescita serenamente felice decrescita o a chi non piace il termine decrescita possiamo dire riduzione dell'impronta ecologica giusto per capirci bene la parola sovraeconomia deriva dal castigliano perché è stata presentata in spagnolo tramite la FIMAR Federazione Internazionale Movimenti Adulti Rurali Cattolici che hanno partecipato nel 2007 al forum in Mali e sovraeconomia deriva da soverania alimentaria mass economia solidaria mass crescimento quei tre concetti che vi ho espresso tutto questo insieme fanno qualcosa di concreto diciamo un bene comune però deve essere compreso infatti l'economia solidale è concreta parliamo dei gruppi di acquisto solidale parliamo dei distretti di economia solidale parliamo di banca etica parliamo di moto autogestione parliamo delle cooperative qui vi ho fatto un elenco quindi è un bene comune derivante dall'ingegneria sociale quindi la sovraeconomia è una strategia di rete che si deve concretizzare sul territorio che si sta concretizzando il problema è che non c'è una comprensione si tratta di una serie di progetti concreti allora la sovranità alimentare apre una porta al discorso delle sovranità noi abbiamo perso non solo la sovranità economica come monetaria come è stato visto stamattina le 500 lire che sono passate da Repubblica Italiana a Banca d'Italia lì abbiamo dato la nostra sovranità cosa vuol dire sovranità? l'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo così sta scritto sulla nostra Costituzione quindi i beni non possono essere proprietà private i beni comuni ma devono essere del popolo se non sono del popolo noi abbiamo perso la nostra sovranità allora la sovranità alimentare tranquilli l'abbiamo persa qui ormai non riusciamo più a produrre la sufficienza per tutti importiamo più di metà di quello che consumiamo per il sistema che ci stanno imponendo di import e export la sovranità idrica non ve la sto a dire abbiamo fatto un referendum una campagna è ben chiara a tutti cosa significa ma esistono anche altre sovranità ad esempio la sovranità sull'energia noi importiamo almeno l'80-60-80% dell'energia che consumiamo alla fine lo prendiamo da altre foto e non ce la produciamo allora la sovraeconomia cosa fa? propone dei progetti concreti qui ho dei volantini che vi lascio a chi vi vuole vedere gruppi di acquisto fotovoltaico allora i gruppi di acquisto sono acquisti collettivi sono un'idea uno slogan che è stato lanciato grazie se non ce ne sarà per tutti però uno slogan che è stato lanciato per dire l'unione fa la forza sostanzialmente con qualche mondo e mondo il progetto dei pannelli fotovoltaici si chiama Sole in Rete è promosso da una ONG a livello nazionale qui nel Veneto in 2-3 anni sono stati piantati più di 900 impianti fotovoltaici per una produzione di 400 megawatt cioè 4 grosse centrali fatte da pannelli fotovoltaici montati dalle famiglie che con più o meno mediamente 500 euro possono farsi i pannelli in cima a casa più famiglie spendono di meno 500 euro perché? perché con la forza contrattuale è possibile mettersi d'accordo con i prodotti di ripanelli con gli installatori e soprattutto con le banche che finanziano al 100% si tengono gli incettivi e detraggono un po' della vendita dell'energia che andrà sempre crescendo il costo cioè le famiglie non solo risparmiano ma possono guadagnare e quindi l'investimento per le famiglie è praticamente questi 500 euro rispetto all'impianto praticamente niente e questo è attuabile già da oggi e il problema è che questo specifico progetto segue gli incettivi che per il fotovoltaico rappresentano il 16% di quelli dati ha le energie rinnovabili per dire qualcosa di concreto sulla sovranità alimentare ad esempio qua a Verona è stato attivato un percorso di piccola distribuzione organizzata attraverso delle cooperative di biologici circa 150 produttori che forniscono materie prime di stagione biologiche fatte bene abbiamo organizzato un sistema per far arrivare le famiglie queste ceste di vari prodotti locali che sono tra l'altro seguite dall'università di Micina cioè analizzate e viene fatta una carta identità e sono se chi lo vuole secondo una dieta bilanciata perché l'alimentazione sia ottimale per l'organismo umano una persona media più volendo ci aggiungiamo anche le ricette per cucinare perché tanti prodotti che stanno scomparendo dai supermercati e che qua invece sono sempre stati prodotti non si siano neanche più come cucinare ad esempio certe radici o certi certi tipi di di verdura adesso vediamo qualcosa di interessante sempre fa parte della sovraeconomia questo sistema di rete che si deve espandere questa è sovranità monetaria sono sostanzialmente delle monete locali tecnicamente sono degli abbuoni e anche qua ci sarebbe da parlare una settimana un po' difficile queste monete sono degli abbuoni perché se facevamo delle monete come il tipo l'ha detto non andate in giro a dire che io ho fatto una banca se io dico faccio delle monete domani anche subito vengono qua i pignani e portano via e noi abbiamo fatto degli abbuoni questo non io ne frega niente sono degli abbuoni come la pasta buitoni che c'ha l'abbuono sulla scatoletta te lo ritagli vai alla cassa lo dai ti fanno lo sconticino questi funzionano così hanno un'accettazione percentuale che ognuno decide produttori beni e servizi lo accetta in percentuale però sono praticamente gratuiti perché l'iscrizione per gli usufruitori è a quota libera può dare anche 2 euro non è un problema e ne ha diritto 100 al mese abbiamo deciso 100 a tutti perché per il momento bastano sono senza interessi e quindi si risolvono tutti i discorsi del problema del debito e potenzialmente sono dei virus della nostra economia sovraeconomia che sostanzialmente combattono il sistema neoliberista capitalista di gamba di legno tirandoli via una parte di quello che più hanno caro il denaro il denaro e la sovranità la sovranità loro dicono che te la danno la libertà ma se te la danno cavolo che la libertà bisogna conquistarsela quindi questi pezzi di carta sono uno strumento didattico sono un virus e sono 100 questi che sono costati 35 centesimi se fossero 100 euro costerebbero 100 euro più un tasso di interesse adesso non me lo ricordo basso comunque 3, 4, 5, 10 per cento dipende dalla banca che va se il popolo dell'acqua non so 10 milioni di persone per la sovranità etica dicono beh adesso sovranità monetaria e spendono 100 di questi 10 milioni per 100 vi fate i conti ve ne farei un miliardo ma se tutti gli italiani sono 60 miliardi che domani noi possiamo recuperare al costo di 5, 10, 15 mila euro per stamparli però già abbiamo il formato elettronico si può fare il bonifico questa cifra si può cambiare si può ridurre senza bisogno di fare manovre semplicemente cominciando a spendere questi perché ognuno di questi spesi è un euro risparmiato quindi aumentano il potere d'acquisto avganciano l'economia al circuito locale selezionato perché mica tutti possono entrare la Coca Cola qui non ce la vogliamo che si stia nel suo sistema che noi ci facciamo il nostro difendiamo la nostra sovranità e questo è un fondamento poterla difendere la difesa della sovranità la difesa della sovranità in pratica come si spendono ad esempio la cooperativa agricola Camagri che fornisce i prodotti a contadini e cuciniere che ci hanno fatto da mangiare che non accettano a scena ancora purtroppo fornisce i prodotti possono essere pagati al 10% perché così hanno deciso gli va bene il 10% in check quindi ogni 100 euro di frutta e verdura consegnata gli danno 90 euro in 10 check ha aumentato il potere di acquisto di 10 euro hanno risparmiato 10 euro vediamolo come volete comunque in certo qual modo abbiamo ridotto il debito pubblico di 10 euro se spesi una volta se spesi due volte i 60 milioni sono 120 milioni perché il reddito è la circolazione del denaro quindi adesso mi diverto facciamo distribuire bisogno di mazzette così proprie allora ne prendete uno ne prendete uno e ne passate indietro eh ma scusa poi non andate a dire che distribuisco mazzette cosa ho fatto in questo momento io ho distribuito 2000 euro di valore al costo di 3 euro e mezzo perché 100 di quelli lì un valore di 100 35 centesimi fate i conti insomma siamo lì anche forse solo 10 euro sono 2000 euro sono curioso di vedere se no forse con un'altra mazzetta se tutti arrivano e faccio notare questa è didattica che le persone che si sono un po' messe ai lati sono autoescluse dalla distribuzione perché lì bisogna alzarsi e muoversi per per venire a prendere dicevo la sovranità bisogna conquistarsela e qui vorrei citare un aneddoto come siamo qui io mi definisco militante del movimento per la sovranità alimentare per l'economia solidale e per la decrescita e quindi per la sovraeconomia sostanzialmente una parola nuova si poteva usare quella come un'altra è solo per indicare perché se si metteva sopra l'economia uno diceva ecco sopra cominciava già a pensare per quanto su ma invece bisogna apprendere cosa vuol dire perché è un concetto complesso però quello che voglio dire è il 16 di questo mese in America Latina è stato ucciso Christian che è un militante del movimento di via campesina dei contadini che difendeva la proprietà della terra la sovranità sulla terra e dei sicari mandati da un'industria locale che ha degli interessi di speculazione sulle terre che stanno mandando via i contadini e i indios ne hanno sparato allora è un mio compagno come possono essere tanti di quelli che stanno in naturalmente Verona che è morto conquistarsi la sovranità non è semplice ci sarà duro ripeto ci sono anche i morti però questo contatto con la realtà e con la morte attraverso via campesina è la mistica che esprime e la mistica fa parte della sovraeconomia la mistica è quel vivere con passione ciò che si sta facendo mettendoci di più di quello che viene richiesto perché semplicemente ci credi io vi dico che nell'assemblea che abbiamo fatto in Brasile nel 2004 c'erano 600 delegati a tutto il mondo questo è già il secondo martire di via campesina uno è stato lì della Corea del Sud a Cancun che quando si fanno queste assemblee fa venire i brividi perché viene fatto l'elecco dei presenti e poi vengono nominati gli assenti il compagnero lì il compagnero Cristian e tutta l'assemblea risponde presente da una forza che è difficile da spiegare e ora vorrei concludere con un regalo un regalo dei movimenti contadini che fa parte della mistica così forse riesco a trasmettergli anche il significato di mistica è una canzone sono sei strofe composta dai contadini coreani tradotta in spagnolo poi in inglese poi in francese poi in tedesco anche in italiano e lancio un messaggio sono ripeto 500 milioni di contadini in tutto il mondo che si stanno mettendo insieme con la società civile e questa loro canzone esprime bene cosa sta succedendo dal loro punto di vista vi leggo il testo in italiano tutto il mondo sta dormendo è il tempo di svegliarsi piangono i contadini le donne i bambini è il tempo di svegliarsi di unire le mani e il domani costruire il futuro che verrà nuova era sarà riflutiamo l'oppressione di questa globalizzazione tutti uniti sotto qual bandiera meraviglioso sarà la vittoria in fronte a noi uniti lottiamo e balliamo ora mentre la canterò siccome il nostro medio musicale io suono anche strumenti musicali ma mi sembrava eccessivo portarlo la pittà mentre la canterò vi invito a battere il tempo con le mani e se volete anche ad alzarvi in piedi con un movimento che fanno i contadini coreani e continua così tutta la canzone è semplicissimo però quando abbiamo finito mi direte se non sentite una energia diversa da prima che vi alzaste e cominciamo questa cosa allora spagnolo francese inglese dormito todo el mundo es tiempo de despertar e ora francesi i nostri i nostri i nostri i mulleri è il tempo per despertar di unire le mani è il tempo di unire le mani il futuro construire la mani che vengono che vengono che vengono che vengono sarà che vengono le mani che vengono l'opera andrea tranquilla grazie a tutti che vengono che vengono che vengono che vengono